Oggi è arrabbiata con me perché non so se la sentite qui vicino a me nella poltrona e d'Asia è il mio cane, il mio portone belga, vediamo se riesco a farvela vedere Eccola lì, è arrabbiata, si gira nei miei confronti, ulula o comunque fa degli strani versi perché io volevo affrontare un argomento molto particolare ed anche impegnativo che è quello del focus, adesso basta, ho capito ma non puoi no, insomma mi disturba sempre e dicevo, a parte le battute, volevo affrontare un argomento serio che è quello del focalizzarsi sulle cose belle che piacciono nella vita ma insomma lei continua a fare tutti questi versi perché non è d'accordo con me e lei sostiene un'altra tesi ma magari la prossima volta fai un video tu, eh? Per quanto riguarda invece la mia di tesi, continua, cioè obietta sempre tutte le volte ma per quanto riguarda la mia di tesi, dicevo, io, eh, adesso si mette anche sta inutile ma non si può, ma come si fa a fare un video così, dai, per favore ecco, adesso sarà anche sì, Lenzio, sto facendo un video per quanto riguarda la mia di tesi, io vado avanti, imperterrito so che se gli esseri umani si focalizzano sulle cose belle che la vita, che insomma vorrebbero che accadessero nella loro propria vita, è difficile che queste cose, come dire, piovano dal cielo senza elezioni, senza darsi da fare, senza alzare il sederino dalla sedia ma se noi ci focalizziamo comunque su queste cose abbiamo, inneschiamo, innestiamo meglio ancora un meccanismo particolare che ci porta a forse, tra virgolette raggiungere questi desideri, questi obiettivi e cose di questo tipo insomma tutto ciò che vogliamo magari non riusciremo a farlo tutto non riusciremo meglio ancora a raggiungerlo tutto raggiungere tutte queste cose belle ma ci avviciniamo e comunque nutriamo la nostra mente soprattutto la nostra anima metaforica di autostima e di pensieri positivi io so, invece, per esperienza che se ci focalizziamo invece sulle cose brutte, sporche, cattive e quindi pensiamo solo, unicamente, alle cose che non ci piacciono che non vorremmo che accadessero, arrivassero meglio ancora nella nostra vita ahimè, per magia non so, l'universo scegliete voi scegli tu ho capito, non sei d'accordo, ora avanti e ad un certo punto queste cose ci arrivano puntualmente nella nostra vita ecco, su questo passo Asia non è d'accordo non è d'accordo sul fatto che ci arrivino in automatico tutte queste cose invece io sostengo e penso che se ti focalizzi sulle cose brutte, sporche e cattive della vita sulle cose che insomma non vuoi non vuoi rimanere solo o sola se sei una dolce fanciulla una dolce metà non vuoi ingrassare non vuoi rimanere senza soldi insomma, tutte queste cose legate dalla come dire dalla negatività il non voglio arriveranno puntualmente nella tua vita lo so non concordi ma per favore adesso basta voglio andare avanti e dunque accade una cosa meravigliosa o meglio una cosa bruttissima che le ricevi tutte queste cose come coach e formatore so invece che focalizzarsi sulle cose belle sulle cose che piacciono sulle cose che uno vuole è molto molto più difficile e qui devo ammettere che Asia concorde con me quindi è come dire è sul mio stesso pensiero quindi significa che se noi ci focalizziamo su quello che noi vogliamo raggiungere e ottenere nella vita desideri, obiettivi, sogni quant'altro è molto più difficile ma è qualcosa di positivo è qualcosa che innesca un circuito virtuoso molto particolare che ci avvicina giorno dopo giorno a raggiungere le cose che vogliamo sì lo so difficile in alcuni versi complicato in alcuni versi quasi impossibile per alcune cose per alcune situazioni magari falliremo incemperemo cadremo tutto quello che vogliamo tutto quello che volete tutto quello che vuoi tu che mi stai guardando da questo video e ovviamente quello che vuole lei ma come coach come esperto di comunicazione e soprattutto come coach motivazionale io so che focalizzarsi su ciò che vogliamo è decisamente meglio che non focalizzarci sulle cose brutte sporche e cattive ovvero quelle che non non vogliamo che poi l'universo ci manda puntualmente in maniera perfetta proprio perché non le vogliamo leggi uno dei miei libri siamo sotto Natale ci avviciniamo meglio ancora a Natale autostima donne 6x rompi i tuoi schemi vitali questo è stato bestseller su Amazon per 17 settimane autostima in 140 caratteri insomma leggi qualcosa anche tu eh leggi qualcosa ti ordino di leggere qualcosa ora